Cari amici, sono Oscar Giannino, sono il Presidente di Fare per fermare il declino, volevo rivolgere a voi tutti di presenti un caloroso saluto e un ringraziamento alla stampa che è presente a questa conferenza stampa di presentazione della nostra lista per le regionali in Molise di fare per fermare il declino, saranno poi i capolisti e i candidati naturalmente a spiegarvi meglio, ma io ci tenevo in particolare a dare il più caloroso dei sostegni da parte mia e da parte della vertice nazionale di fare per fermare il declino a questa presenza, che è una presenza fondamentale per noi in Molise, sapete che siamo una forza politica nata da poche settimane, sulla linea che abbiamo mantenuto concretamente, le liste si parlano chiaro, di una rottura completa nei confronti dei partiti della Seconda Repubblica, solo liste di persone di società civile, nessuna compromissione col vecchio sistema dei partiti, niente indagati, coerenza tra quello che ciascuno dei nostri candidati ha fatto nella vita personale, professionale, di relazioni sociali fino a questo momento e la stessa coerenza vogliamo portarla nella politica nazionale alle elezioni della Camera del Senato dove siamo presenti, avendo racconto il doppio delle firme necessarie in tutte le circoscrizioni della Camera del Senato, ma intanto noi iniziamo il radicamento nella realtà territoriale e quindi entreremo nei consigli regionali per cui si vota insieme alle politiche, quindi in Lombardia, nel Lazio e appunto in Molise come faremo subito dopo, poche settimane dopo in Friuli, Venezia e Giulia. Qualche parola per spiegare l'importanza della scelta che abbiamo compiuto in Molise, poi di due o tre punti fondamentali del programma, perché per tutti gli altri rimando poi, perché vi verranno illustrati a seguire. La scelta fondamentale che abbiamo condotto in Molise è una scelta politica molto rilevante, per una forza che non sia alleata con nessuno a livello nazionale, con nessuno dei grandi poli né con gli altri più piccoli schieramenti, che va da sola per superare gli impegnativi traguardi, il minimo di voti previsti per la Camera dei Deputati e per il Senato, essendo appunto fieramente soli, perché il nostro programma è irriducibile a quello che propone Berlusconi, per noi capitolo chiuso da anni, è irriducibile alle proposte del PD sulla patrimoniale e siamo anche fortissimamente delusi dall'iniziativa neocentrista di Monti che mira solo a evitare che uno dei due prenda il premio di maggioranza al Senato, per una forza politica come la nostra che ha deciso di andare solo a livello nazionale, voi capite che le alleanze sono un tema molto delicato, perché noi dobbiamo compiere scelte di questo tipo solo in piena coerenza, quei dieci punti di programma molto secco che trovate sul nostro sito www.fermalodeclino.it e in piena compatibilità e coerenza con quei fondamenti di svolta nella vita politica centrale e periferica che per noi sono indeclinabili, sono fondamentali, sono irrinunciabili, per questo la scelta politica che abbiamo compiuto per le regionali del Molise è una scelta molto importante, perché non è equivalente in tutta Italia, nel senso che da nessun'altra parte alle regionali dove si vota, né in Lombardia né nel Lazio, noi abbiamo trovato le condizioni per un'alleanza che invece in Molise abbiamo stretto, sicuri del fatto di fare la scelta giusta e che all'origine del fatto che la lista regionale fa per formare il declino in Molise è in un'alleanza con la lista di costruire democrazia, il cui leader romano, Assimo Romano è da questi ultimi anni e a nostro giudizio senza alcun dubbio il protagonista di battaglie in consiglio regionale del Molise che sono le battaglie che ci piacciono, sui temi che ci piacciono, col tono che ci piace, con i contenuti che ci hanno convinto dopo aver osservato i tanti documenti che ha presentato, le tante proposte che ha presentato, le tante denunce che ha inoltrato contro un sistema di potere, questo è il nome da usare che soffoca da anni e anni, in totale continuità e senza vera opposizione da parte della sinistra, il Molise affidato nelle mani di chi si presenta ancora una volta, cioè Iorio nel tentativo di guidare la regione, a conferma di un sistema bloccato, malgrado i procedimenti penali e la condanna in primo grado penale che ha già raccolto, nella riproposizione di un problema che è molto serio e contro questo problema molto serio, di una compenetrazione tra finta opposizione e maggioranza, in cui l'opposizione addirittura prende gli uomini dell'ex maggioranza e li candida come presunti leader dell'opposizione, in un compenetrarsi che non è uguale in tutta Italia, di nomine pubbliche, in società direttamente controllate o partecipate nell'economia reale. La battaglia condotta da costruire la democrazia da Massimo Romano è per noi la linea da condividere, da sostenere con ulteriori rafforzamenti programmatici ed è sicuramente la strada nella quale i prossimi anni noi crediamo con il voto e il consenso dei molisani che vogliano cambiare davvero, fare per formare il declino insieme a costruire la democrazia è l'unica alternativa che oggi nell'offerta politica regionale ci sia alla vostra attenzione di cittadini del Molise. Queste sono le mie uniche osservazioni, un abbraccio a tutti, un caloroso sostegno ai nostri candidati, siano loro adesso a entrare meglio nel merito e naturalmente un abbraccio e un sostegno a Massimo Romano a costruire la democrazia perché sia davvero una grande affermazione quella che in Molise possa vederci assieme anche con il nostro, appena nato però deciso contributo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.